Non è un goffo tentativo di giocare a mosca cieca il modus operandi di una banda specializzata in furti in appartamento ed esercizi commerciali, fermata dai carabinieri. Il sospetto è che sia proprio la stessa banda che ha messo a segno 10 furti, di cui 4 ad Arezzo e gli altri tra Rimini e Perugia. Attradiremo al viventi questi filmati delle telecamere a circuito chiuso, dove viene immortalato un 25enne albanese, fermato a Igea Marina. Gli altri due, si fa per dire colleghi, sempre albanesi, erano già stati fermati poco prima. Il 25enne, come si vede, si copre con delle bende le braccia e il volto per mascherare non solo la sua faccia ma anche dei vistosi tatuaggi. L'uomo era latitante dopo l'ultimo tentato colpo in un bar di Sansepolcro. Tra i reati attribuiti alla banda, il colpo ad un'autocarrozzeria in provincia di Rimini e a 5 aree di servizio nell'Aretino e un bar di Monterchi.